Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nice and Dragons Questo video doveva uscire un po' di giorni fa, solo che ho avuto dei contrattempi che mi hanno portato a non poter registrare il video quindi lo registro in questo momento e volevo farvi vedere dei cambiamenti che ci sono stati due giorni fa Hanno portato dei cambiamenti a le ricompense del ride e a una modalità che tempo fa c'era, poi durava 7-8 giorni e poi dopo un tot di settimane la rimettevano c'era una ogni tot di settimane in pratica Ed è la Heroic Mod Partiamo dall'Epic Boss Partiamo un attimo L'Epic Boss è il cane, leone, orso, pesce qua che si chiama Banip e quello che avevo fatto negli updates, che avevo detto che avrei tenuto la sua matura plus perché non ho Epic e Terra Acqua è molto bello l'amatura un po' meno però abbastanza carina e sono arrivato a 35 e tra poco posso fare la plus due giorni dove riuscire a fare visto che mancano anche due giorni e dodici ore devo muovermi bene sono partito dall'Epic Boss perché come avevo detto nei video precedenti di solito corrispondeva l'epica che mettevano nell'arena invece quest'arena abbiamo una epica monoacqua e non una terra acqua e vabbè questo era un piccolo dettaglio adesso partiamo da quello che avevo detto che lo fa vedere l'Eroid Mod e il Ride partiamo dal Ride il Ride Boss è l'Armor che gli elementi erano azzeccati negli updates acqua, fuoco eccolo qua e sto facendo una top diciamo non molto top però vabbè e c'è un'altra gilda e siamo a 206esimi e questa è l'armatura è la Dragon Force abbastanza carina qua non si riesce a vedere bene perchè è più piccola si vederà meglio negli updates e le recompense devo farvi vedere allora quelle per i membri della gilda sono tutte fusion boost da due stelle quelle vecchie insomma poi top player sono più o meno uguali a quelle della gilda so che cambiano le posizioni ok quindi adesso farò vedere il cambiamento che c'è stato non è non si vede molto in pratica sono solo le boost che sono cambiate allora la Dragon Forge Plus con due fusion boost epiche per il primo posto due fusion boost leggendarie per il secondo posto una leggendaria per il terzo posto due da tre stelle per il quarto decimo posto poi abbiamo come epica la Kirin con una da tre stelle per la top 25 e quattro da due stelle per la top 50 e così via due da due stelle per la top 100 top 250 non abbiamo più le boost abbiamo come erano prima le ricompense come erano quelle di prima poi le milestone anche nelle milestone hanno puntato alle boost vediamo che in ogni milestone c'è un boost a partire dalla terza milestone che diventano due poi una da tre stelle un'altra da tre stelle un'altra da tre stelle una da contro stelle una da cinque stelle e prima non erano così non c'erano queste boost qua e anche non essendoci non erano ancora state create quindi non potevano esserci queste magari c'era qualche boost da due stelle al 12 milioni non mi ricordo adesso com'era bene però se andate a vedere qualche video di un ride boss precedente tipo quello che ho fatto del ride boss terra fuoco vedrete come erano le recompense prima e queste erano le recompense in maniera generica delle semi nuove diciamo perché tengono aspetti vecchi però ci sono anche le boost nuove che vanno ad aggiungersi ai premi cambiando un po' le recompense ok questo è il ride boss passiamo all'eroic mod l'eroic mod la modalità eroica sarebbe un livello in più oltre all'epico ancora più difficile qua come ho detto nel ride andate a vedervi un video che io non ho fatto perché non c'è stata da quando ho iniziato la serie su nice and dragon su un heroic mod quindi andate a vedere un video di qualche qualcun altro gli italiani non credo ce ne siano andate a cercare un inglese che abbia fatto un video su un heroic mod e vedrete come era una volta purtroppo non essendoci stata da quando ho iniziato a fare il video io non posso riportarvi al mio video in cui avrei fatto vedere come era l'eroic mod prima adesso hanno messo un boss di quelli vecchi che erano gli epic boss vecchi che davano armature leggendarie di due anni fa penso che io ancora non giocavo e a ogni stage li hanno messi a fine di ogni stage adesso andiamo a vedere io ho fatto ho preso il primo cristallo di qua dei primi quattro dungeon e sono al quinto e mi manca un frammento adesso andremo a usare un amico di terra ci sono una terra quindi adesso vi faccio vedere questi sono vediamo anche dei nemici che normalmente nel dungeon non ci sono e questo c'era già nella eroic passata la versione vecchia e era debole comunque adesso non lo faccio le più boss saltiamo lo faccio dopo questo non c'era quest'altro non c'era quello è sempre quello vecchio di scarso e perché questo ha molti questo dungeon ha molti di quelli vecchi ecco in questo invece per ultimo c'è uno dei vecchi boss questo trago qua infatti vedete che è più resistente lo sconfiggiamo ci danno l'oggetto e adesso si visto che sconfiggendovi con l'artacco potente vi da il suo oggetto caratteristico è arrivato un tot di 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 numero che serve di questi materiali in questo caso l'hyscale vi potrà far forgiare nell'harmon smith forgiare la sua armatura leggendaria sono più forti dei leggendari che davano i boss dell'heroic mod prima però sono sempre leggendari scarse quindi non cioè non interessa nessuno forgiarle al massimo se volete forgiarle una volta che arrivate ai materiali per cercare insieme a un'altra leggendaria di trovare dalla fusione di queste due una epica ci può stare se no niente in l'ultimo stage in cui ci sarà il boss nuovo dell'heroic mod ah no quello che c'era nel primo stage mi sembra che era il boss dell'epic mod passata di questo dungeon attacco pesante è potente è pesante cioè questo è il nostro tipo volibear eh ci da il suo oggetto il frammento abbiamo finito anche questo dungeon ci mancano tre cristalli questi star crystal per forgiare la vargar plus perchè hanno messo come epica la vargar che è una delle armature che io ho già e quindi devo fare solo 8 cristalli per prendermi la plus se no avrei dovuto fare 8 di questi cristalli qua per fare la normale poi portare il 35 rifarmi altri 8 cristalli con gli altri dungeon e prendere la plus invece così è molto più facile perché faccio solo la plus e vi faccio i dungeon più semplici questa è la fine del dungeon andiamo nelle news adesso vi devo far vedere questa che mi sono scordato è l'epica spirito tebra che avevo detto bellissima degli insetti infatti si chiama la beetle chest la cesta insetto e l'armatura si chiama beetle fly carapace è abbastanza buona non è molto forte come in dragonforge visto che il max della versione plus sono queste sono più forti quelle da war ma essendo la cesta va anche bene molto molto bene e andiamo sulla pagina del heroic mode eccola qua la barcar non è una dragonforge come pensavano tutti quelli che avevano detto è heroic mode rifatta metteranno la dragonforge dove fai sarà più difficile e tutto no non è vero niente vediamo che c'è scritto in alto qua heroic mode l'evento finirà il 10 settembre il 10 settembre è iniziata il 20 agosto diciamo si il 20-21 agosto quindi abbiamo tre settimane rispetto a una settimana settimana prima e prima i cristalli i frammenti erano rari da trovare cioè li trovavi o non li trovavi era un drop rate abbastanza basso un 50 neanche perchè molte volte io non li trovavo nei primi dungeon ok ma quando arrivavo già al terzo al quarto era più difficile trovarli non li droppavo quasi mai e invece adesso il drop come abbiamo visto prima l'ho presa e del 100% infatti sono già il quinto dungeon finito mentre se fosse stato con la vecchia magari ero ancora il terzo a sclerare perchè non droppavo i frammenti invece adesso c'è il drop del 100% e quindi ogni volta che finite il dungeon vi da il cristallo questo era tutto e ci vediamo col prossimo video ciao a tutti grazie